A Rovetta nel fine settimana c'è questa iniziativa che ci porta un po' anche in Germania. Sì esattamente, siamo alla seconda edizione, l'anno scorso l'abbiamo già fatta sempre in questo periodo e è andata molto bene, in conseguenza abbiamo pensato di rifarla. La novità è che quest'anno si è giunto anche il bar Passaparola, percianto ci sarà anche parte di Via Magri chiusa al traffico insieme a Via Tosi, che è questa. L'iniziativa è grosso modo la replica di quella dell'anno scorso, e cioè tutte le vie saranno chiuse, ci saranno le tavolate lungo le vie e ognuno dei tre bar avrà la musica, chi il DJ, chi musica dal vivo, insomma cerchiamo di differenziarci un pochino per non avere del tante piccole fotocopie. Poi ognuno di noi preparerà qualcosa, ad esempio qui al bar Millennium avremo le pizze, col forno a legna, il Costa d'Oro in collaborazione con l'omonimo ristorante Costa d'Oro farà delle specialità tedesche e stessa cosa anche loro su al Passaparola. Speriamo nel tempo e incrociamo le dita insomma. Ricordiamo gli orari? Gli orari, allora la strada verrà chiusa e verranno messi giù i tavoli a partire dalle 18, perciò dalle 18 in poi grande festa.